Musica Ciao a tutti ragazzi e butti questo nuovo video di Kevin Uzumaki 50 e oggi andrò a fare le summon in Naruto Shippood Ultimate Ninja Blazing prima di cominciare volevo salutare Filippo che voleva essere salutato e adesso cominciamo chi vorrebbe essere salutato me lo scriva pure sotto nei commenti o sui vari social di Instagram e Facebook e nel prossimo video lo saluterò molto volentieri adesso andrò a fare le summon che io stesso su Instagram e Facebook vi ho informato di questa summon nuova che è uscita e ovviamente speriamo di trovare ci sono Naruto Seivie, Sasuke Seivie, Pain e Guy della Notte spero di trovare almeno uno di loro che avevo fatto un video su Naruto Seivie la scorsa volta non la scorsa volta, un po' di tempo fa dove ho fatto un bel po' di step ma non l'ho trovato comunque il link è in descrizione dello scorso video dai su speriamo di trovarlo, questo è il Guy della Notte davvero potentissimo speriamo in bene proprio di trovarlo ho 53 Ninja Pell quindi ce la faccio in tempo diciamo now loading dobbiamo sperare che ci esca almeno un dorato forza ok via non esce Sasuke, questo è un cattivo segno però dai su speriamoci fino in fondo perfetto arriva Sasuke, non è sicuro però uno, due, tre speriamo almeno in uno per favore uno almeno c'è, uno c'è non so chi possa essere io spero in bene che sia uno di loro vediamo con Amaru buono, molto buono con Amaru però non è chissà che purtroppo in questo video abbiamo solo trovato lui può diventare 6 però non era quello che cercavamo purtroppo però dai almeno è un 6 stelle nuovo che non abbiamo andiamo a vederlo un attimino sulle summon cioè nella character list allora andiamo a vederlo non mi sono esaltato neanche perché io volevo Naruto non con Amaru non è chissà che potrebbe rivelarsi utile non so per qualcosa forse Ninja Road potrebbe servirmi lì poi vabbè tutti gli altri sono stati inutili alla fine bene ragazzi è stato un video corto ma purtroppo non c'ho altre altre Ninja Pearl di quasi ne faccio una singola gratis vediamo cosa ci può uscire una così a caso proprio eh solo perché ho qualche Ninja Pearl in più non credo che uscirà qualcosa comunque vediamo sarà una schifezza eh è infatti un bronte infatti è infatti che sono 5 stelle in una singola è difficile vabbè non abbiamo trovato nessuno di loro ancora per quanto tempo sta fino al 30 novembre non ci abbiamo più tempo bene ragazzi io si conclude qui ovviamente ho trovato con Amaru solamente non è chissà che pur sempre uno che può diventare 6 stelle ma in confronto a quelli che c'erano nel banner lui non è è debole in confronto a quelli che c'erano nel banner comunque ragazzi sentite un bel pollice in su se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivate il capo di dare delle notifiche così vi arriva la notifica di ogni volta che faccio un nuovo video e ci vediamo alla prossima ciao ciao